Vincere è sempre bello in qualsiasi competizione, campionato, coppa, non è mai facile contro qualsiasi avversario, si parte da 0 a 0, non esiste categoria, anzi forse a volte anche più difficile, però oggi abbiamo fatto una bella prova, la prima partita ufficiale l'abbiamo vinta nel nostro stadio e siamo molto contenti. Oggi mi sono sentito bene, ovviamente non avevo tutti i minuti nelle gambe, però dopo un ritiro dove abbiamo lavorato tanto, maggior partita di ritiro l'ho fatto, poi ho avuto qualche problemino, però ora mi sento bene e sono contento. Contro il Napoli sarà una partita difficile, difficilissima, giochiamo contro i campioni in carica, però siamo nel nostro stadio, davanti ai nostri rifosi e daremo il massimo per ottenere il massimo risultato possibile. I nostri rifosi voglio solo ringraziarli perché nella passata stagione sono stati importantissimi, anzi sono stata l'arma in più per noi e quindi ero sicuro che facessimo quest'anno tantissimi abbonamenti, sono contentissimo e non vedo l'ora di vederli allo stadio sabato prossimo.